in queste ultime ore è uscito un leak piuttosto intrigante per quanto riguarda Genshin Impact che non riguarda personaggi nuovi non riguarda nuove armi o chissà cos'altro ma riguarda essenzialmente un oggetto che ci servirà per ascendere una di queste armi che sinceramente non ricordo nemmeno quale però a prescindere da questo è un oggetto che tu potrai farmare e da qui sono nate una miriade di teorie e quant'altro che potete trovare su Reddit su YouTube su Twitter soprattutto perché di che cosa riguarda questo questo leak riguarda essenzialmente la delusion o meglio le delusion perché se vi ricordate le delusion sono essenzialmente una sorta di vision creata dai fatui dalla Tsarisa che ha un pochino gli stessi poteri perché tu sei in grado di manipolare i vari elementi che ci sono su Tevat ora ovviamente l'utilizzo di queste delusion è molto particolare perché porta essenzialmente degli effetti collaterali infatti se vi ricordate di Nazuma c'era quel personaggio con l'NPC di Teppei se non mi ricordo male che era essenzialmente morto dopo aver utilizzato la delusion mentre invece poi ci sono altri personaggi come per esempio di Luke che utilizzano la delusion senza alcun tipo di effetto collaterale molto probabilmente perché lui è un personaggio che possiede una vision quindi è un umano ma a tutti gli effetti è come se fosse una sorta di superumano insomma sopraumano qualcosa del genere no? Cioè non ha le stesse caratteristiche di una persona normale e qua qual è la cosa interessante? Che ci sono appunto tre oggetti farmabili che si possono ottenere da due nuovi nemici che spoiler sono essenzialmente dei membri dei Fatui non dei Fatui Arbinger ovvero i messageri dei Fatui perché quelli sono un'altra cosa già questo si è creata una sorta di discussione veramente molto stupida su Twitter che le persone credevano che i Fatui erano solamente i Fatui Arbinger non è così gente cioè veramente alcune volte io mi chiedo ma come cavolo lo giocate a Genshin? cioè i membri dei Fatui sono anche quelli che tu sconfiggi nell'open world ma credo che sia abbastanza ovvio però se dobbiamo specificare anche questo veramente però insomma questi nuovi membri dei Fatui che sono degli operatori operativi non so nemmeno io come definirli operators mi pare che c'è scritto in inglese sono veramente molto interessanti a livello di design che però non vi posso far vedere per problemi appunto di copyright e appunto uno dovrebbe essere se non mi ricordo male di Krio l'altro di Anemo e sono sicuramente dei personaggi nuovi dei nemici nuovi che vedremo appunto nel open world ora che cosa droppano questi nemici? vanno a droppare queste cose qua ovvero questo orologio da tasca dei Fatui che spoiler questo è il simbolo dei Fatui anche su questo la gente ci aveva visto ah ma quindi la delusion o comunque questo piccolo orologio ha un... essenzialmente un'icona di un elemento no gente io mi meraviglio che a distanza di tre anni ancora non vi ricordate nemmeno quali sono i simboli degli elementi questo non è un simbolo di un elemento è il simbolo dei Fatui dell'organizzazione dei Fatui però ti ripeto la gente molte cose non le sa evidentemente a parte questo vi faccio vedere appunto che questo è un oggetto che tu puoi droppare da questi operativi dei Fatui come c'è scritto anche qua questo preso da Project Amber e appunto ci sono tre versioni di questo oggetto questa è la versione standard essenzialmente quella verde questa qui è la versione blu che già come vedi è un pochino più particolare il simbolo è anche blu scuro essenzialmente perché è quello appunto il simbolo dei Fatui e qua che cosa ti va a dire in più rispetto all'oggetto normale che se tu li utilizzi troppo cominciano a farsi dei graffi o qualcosa del genere quindi dato che non sono degli orologi da tasca tranquilli da utilizzare molte persone o non li usano a tutti gli effetti o quantomeno se li mettono proprio se li vanno ad attaccare tipo sul vestito o qualcosa del genere però appunto fin qua tu dici va bene è un oggetto lo prendiamo per quello che è ha il simbolo dei Fatui è un semplice orologio da tasca e invece no invece no perché la versione quella viola quella più rara è mind blowing come dico nell'inglese ovvero che ti fa fare boom nel cervello perché eccolo qua e questo è essenzialmente ti va a dire che oltre ad essere l'orologio da tasca e tutto il resto al suo interno come si può vedere anche qui c'è letteralmente una delusion attaccata appunto a questo orologio da tasca quindi questi operatori questi operativi dei Fatui vanno a trarre il loro potere da questa delusion che portano con sé ergo quando noi andremo nella 4.1 nella nuova zona di mappa ci saranno questi nuovi nemici noi andremo a collezionare letteralmente letteralmente del delusion che è una roba interessantissima questa cosa però anche qua ti dico è interessante cioè nel senso è sicuramente un cambiamento rispetto a quello che magari ti potevi aspettare perché se tu mi vai a dire che guarda sono vision delusion tutte queste cose qui e quindi ti aspetti che questi oggetti siano veramente molto particolari che non li puoi dare a tutti ok? cioè vi voglio solo ricordare che all'interno del gioco all'interno del gioco noi abbiamo come oggetto dell'Arcon Quest la visione del principe essenzialmente la vision di Child quindi dato che questo oggetto viene considerato molto importante tutti ci potevamo aspettare che una cosa di questo tipo veniva anche considerata in questo modo mentre in realtà non sembra essere così in ogni caso però cosa dice qua la descrizione dell'oggetto ti dice essenzialmente che questo oggetto viene dato non a tutti i fatui che tu trovi anche nell'open world che sono appunto quei ciccioni insomma la Sissi Mage o comunque quello là che ti rilascia essenzialmente quella sorta di coltello come Drop che trovi a Most e tutto il resto o quello con il fucile quelli non sono dei fatui di rango alto mentre invece i nemici che andranno a mettere nella versione 4.1 che sono appunto dei nuovi membri dei fatui questi sono dei fatui di rango alto e hanno la probabilità di droppare questo orologio da tasca attaccato sopra la Delusion cioè praticamente ti viene spiegato anche che l'ordine dei fatui non segue quello che è un classico ordine militare cioè se tu sei di un rango talmente alto cioè puoi fare quasi quello che vuoi un pochino come i messaggeri dei fatui quindi insomma come i fatui quindi ti vanno a dire che questi operatori dei fatui fanno affidamento alla Delusion ma sono anche molto abili in diversi altri contesti insomma diverse altre arti del combattimento qua ti viene anche detto che loro vanno a sacrificare il loro passato il loro presente e il loro futuro per alzarsi verso l'altare che è praticamente questo paradiso ideale dei fatui cioè praticamente loro stanno combattendo per raggiungere questo grande ideale dell'organizzazione e immagine della zarizza stessa che però non ci viene svelato che cos'è ora avevo retto in rete giusto per concludere che diverse persone si erano fatte delle idee per quanto riguarda il case essenzialmente di questo di questo orologio da tasca con la la Delusion sopra ora mi dispiace rovinare le teorie di tante persone perché a quanto mi pare di capire ci sono persone su Twitter e su Reddit che campano di queste cose evidentemente che già avevano detto ah quindi confermato il case della Delusion è fatto in questo modo quindi probabilmente anche la essenzialmente la visione di Child ti va a confermare che non è una visione tutti gli effetti potrebbe essere una Delusion cioè Dio mio gente ma datemi una calmata nel fare tutte queste teorie non abbiamo una conferma di niente di niente cioè per quale motivo la visione di Child e anche questo orologio da tasca con la Delusion ha essenzialmente questo case che è quasi identico per quale motivo perché i Fatui vengono da Shesnaia ok quindi dato che Child è di Shesnaia le due cose hanno lo stesso case tutto qui cioè inutile vederci sempre lago nel pagliaio o chissà che cosa magari in futuro ti andranno a confermare chissà che cosa ma al momento il case che tu vai a vedere delle varie visione e tutto il resto ti va solamente a confermare l'origine del personaggio tutto qua anche quella di Scaramouche giusto per dire una roba a caso ha il case di Sumeru quando lui in realtà è di Inazuma o quantomeno magari puoi dire che ha vissuto a Shesnaia per tanto tempo ma dato che la visione l'ha ricevuta appunto a Sumeru evidentemente il case che gli è arrivato è quello capito ok fare delle teorie ma se non abbiamo confermato praticamente nulla non capisco perché dobbiamo sempre stare qui a farci 3000 giri mentali su cose che magari sono messe solamente così a livello decorativo giusto per giusto per pur per per quanto riguarda questo ho trovato questa immagine in rete delle probabili vision con il case essenzialmente di Shesnaia o comunque anzi non delle vision ma delle delusion però appunto giusto per darvi un'idea e per ritornare anche al manga di Genshin Impact le delusion anche se hanno un colore non vanno ad indicare l'elemento ok perché questa delusion che utilizzava il padre di Luke è di colore rosso ma non è stato confermato da nessuna parte che questa delusion aveva il potere insomma di Pyro ok quindi ci sono delle robe in rete che potete anche trovare ma appunto non c'è nulla di confermato però detto questo detto questo sicuramente interessante il fatto che questi nuovi nemici del essenzialmente della 4.1 ci daranno questi vari oggetti sicuramente molto particolari e che cavolo tu pensa nella prossima pace cominciamo a letteralmente collezionare delusion così chi l'avrebbe mai pensato una cosa del genere cioè sarebbe divertente che magari tu ne ottieni 500 di queste cose e quando arriviamo a Shesnaia le puoi donare alla Zalisa per dire guarda ti ho portato ste robe che rappresentano tutti i tuoi fatui che io ho ucciso sarebbe un pochino creepy ma direi che ci potrebbe pure stare guarda